Il tema della sicurezza è un tema complesso che richiede una risposta complessa articolata. La nostra è una risposta che non si basa su un unico tipo di intervento. C'è bisogno di potenziare le forze dell'ordine? Sì, la risposta del centro-sinistra è sì. Ovviamente non dipende dal Comune, il Comune come sta facendo continuerà a sollecitare il Governo perché potenzi le forze dell'ordine. Noi non siamo favorevoli invece all'esercito, questo lo dico chiaramente. Dobbiamo poi sfruttare le tecnologie? Io continuo, basta mi dare il tempo, non si può sfogare, non ci sono problemi. Tranquillo, tranquillo. Tanto non si sente, via. Se mi interrompo non mi interrompo anch'io e poi riparto da dove è arrivato. Sfruttare le tecnologie. Per esempio, io l'ho già proposto e lo ridico. Proporrei una sostituzione degli impianti di illuminazione con un sistema LED. Direte voi che c'entrano la sicurezza? Perché io poi ci metto anche le telecamere. Ci sono dei sistemi che lo fanno. Poi, sì, andate a documentarvi e vedete che ci sono in Italia. Poi aggiungo, si risolve il problema con le telecamere? No. Perché poi la sicurezza si risolve anche facendo politiche urbanistiche e pensa alla rigenerazione di quartieri. Perché il degrado e l'insicurezza io la combatto mettendoci le persone nei luoghi degradati. E ci metto le persone se creo degli ambienti adatti, se faccio delle politiche urbanistiche adatte. Poi io, il degrado e l'insicurezza, la combatto con la cultura e con la formazione. Perché la cultura e la formazione sono gli unici antidoti veri all'insicurezza. Ed infine... Siamo vicini alla fine. E infine, concludiamo la frase... E infine la combatto spiegando ai cittadini che una città sicura è solo quella città che è coesa e solidale. Va bene. Allora... Iovarelli Colonna. Posso fare un piccolo inciso? Io non ho mai trovato in un dibattito fra candidati in cui si parla di telecamere qualcuno che risponda poi anche a questa domanda. Ma chi li guarda poi questi filmati? Perché sapete che poi si mettono tante telecamere in tutte le città, di destra e di sinistra, poi i filmati non li guarda nessuno. Prego. Noi siamo Prati. Si sente? Si sente. Noi siamo Prati, ci andiamo direttamente ai concetti. Quando si parlò per la prima volta di istituire un assessorato alla sicurezza, si levò un coro di bu, un coro ovviamente di incredulità. Ho parlato in questi giorni con Mezza Italia. Esistono degli assessorati alla sicurezza a livello regionale e a livello ovviamente comunale e provinciale. Quindi noi istituiremo l'assessorato. Serve a canalizzare fondi. Serve a migliorare le condizioni di sostegno anche ai corsi di professionalizzazione della Polizia Municipale. Serve a creare un clima di sinergia tra le varie forze presenti sul territorio. Perché noi bisogna imparare a collaborare e a coordinare le forze presenti sul territorio. Ma bisogna anche qualificare e risolvere alcuni problemi sindacali della Polizia Municipale. Che non ha diritto agli 80 euro. Alla quale non viene riconosciuta la causa di servizio. E alle quali viene richiesto un compito che è molto superiore alle loro possibilità. Quindi noi andremo in questa direzione. Canalizzando dei fondi e potenziando appunto la loro professionalità. In più ovviamente a livello di poteri di ordinanza faremo tutte quelle cose che purtroppo il sindaco Bonifazi non ha voluto o non ha avuto il coraggio di fare. Tranne ovviamente l'articolo 6 del Tuel riguardo agli schiamazzi notturni. Noi cercheremo ovviamente di combattere l'abusivismo. Cercheremo di combattere i parcheggiatori abusivi. Vorremmo sviluppare a livello tecnologico attraverso le istituzioni di un sistema di videosorveglianza che io due mesi fa ho proposto alla città. Che è un progetto che tra l'altro non costerebbe niente neanche ai contribuenti. E quindi un progetto integrato che veda l'integrazione culturale, scolastica, linguistica, sociale. Anche del problema della migrazione. Che è un problema che crescerà esponenzialmente. Con il quale dobbiamo imparare a coesistere, a convivere e a controllare. E non da esso ad essere controllati.